Il gruppo ERA nel ciclo idrico sta cercando di portare novità diciamo, siamo in una fase abbastanza critica del percorso dell'acqua, abbiamo superato almeno in Emilia Romagna il problema più importante relativa alla depurazione e adesso ci confrontiamo con la sfida più importante di tutto, quella dei cambiamenti climatici che porta da una parte ad avere scarsità di risorse di materia prima e ovviamente dall'altra eventi meteorologici che ci impegnano nel tentativo di non danneggiare le strutture cittadine. Noi stiamo lavorando su questo tema cercando di privilegiare tutto ciò che è nuovo, quindi cercare di utilizzare le risorse al meglio per evitare sprechi ma soprattutto per ottimizzare risorse in un'ottica di sostenibilità, che è una parola che tanto va di moda in questo momento. L'obiettivo ovviamente è quello di riuscire a far sì che i nostri cittadini nel futuro, i nostri figli nel nostro futuro abbiano risorse a disposizione per garantirsi una vita tranquilla e felice.